Trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Pace per la pace nel mondo. Cristo Gesù, Principe della Pace, illumini i reggitori dei popoli affinché custodiscano il grande tesoro della pace come primo bene da difendere e garantire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'Annunzio a Maria e della concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. E vengi ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'Angelo ci fai contemplare il mistero dell'incarnazione del Verbo, concedi che per la sua passione e morte giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Oggi venerdì, memoria dei Santi Timotio e Tito, recitiamo insieme, meditando i misteri del dolore. Nel primo mistero, l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Pater nostre, qui essi in Cieli, santificetur nomen Tum, advenia regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nost dimittimus debitoribus nostris, et ne nostri inducassi in tentazione, sed libera nostra mano. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuei murieribus, benedictus fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuei murieribus, benedictus fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuei murieribus, benedictus fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuei murieribus, benedictus fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuei murieribus, benedictus fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuei murieribus, benedictus fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus Tui murieribus, benedictus fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Gloria al Padre, Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Secondo mistero del dolore, la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazie al Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mate di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mate di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mate di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore è con te, Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Terzo mistero. Gesù viene coronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci da tentazioni, Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. In Tamil, Arunarenda Maria e Walga, Andover Muda ne, Pengalukula astruthi kya patta vol nire, Vidae Trubetrin Kaniyai, Eesuvum astruthi kya patta vol nire, Sankta Maria, Adi Dio, prega per noi, Katoori, Adessu lillowakla, Nostamavate amin. Arunarenda Maria e Walga, Andover Muda ne, Pengalukula astruthi kya patta vol nire, Vidae Trubetrin Kaniyai, Eesuvum astruthi kya patta vol nire, Sankta Maria, Mata Dio, prega per noi, Peccatoori, Adessu lillowakla, Nostamavate amin. Arunarenda Maria e Walga, Andover Muda ne, Pengalukula astruthi kya patta vol nire, Vidae Trubetrin Kaniyai, Eesuvum astruthi kya patta vol nire, Sankta Maria, Mata Dio, prega per noi, Peccatoori, Adessu lillowakla, Nostamavate amin. Arunarenda Maria e Walga, Andover Muda ne, Pengalukula astruthi kya patta vol nire, Vidae Trubetrin Kaniyai, Eesuvum astruthi kya patta vol nire, Sankta Maria e Walga, Pregalukula astruthi kya patta vol nire, Adessu lillowakla, Nostamavate amin. Arunarenda Maria e Walga, Andover Muda ne, Pengalukula astruthi kya patta vol nire, Vidae Trubetrin Kaniyai, Eesuvum astruthi kya patta vol nire, Sankta Maria e Walga, Adessu lillowakla, Nostamavate amin. Arunarenda Maria e Walga, Andover Muda ne, Pengalukula astruthi kya patta vol nire, Vidae Trubetrin Kaniyai, Eesuvum astruthi kya patta vol nire, Sankta Maria e Walga, Nostamavate amin. Arunarenda Maria e Walga, Andover Muda ne, Pregalukula astruthi kya patta vol nire, Vidae Trubetrin Kaniyai, Eesuvum astruthi kya patta vol nire, Sankta Maria e Walga, Nostamavate amin. Arunarenda Maria e Walga, Andover Muda ne, Pregalukula astruthi kya patta vol nire, Vidae Trubetrin Kaniyaiye, Eesuvum astruthi kya patta vol nire, Sankta Maria e Walga, Saankta Maria e Walga, Nostamavate amin. Arunarenda Maria E Walga, Andover Muda ne, Vidae Trubetrin Kaniyai, Eesuvum astruthi kya patta vol nire, Sankta Maria e Walga, Nostamavate amin. Adesso nell'Orad la nostra morte, Amen. Arunirenda Maria e Valg, Andover Mudene, Pingalakula Asurvedike Paddavolniire, Mudiethruveitring Ganiyai, Iesuvum Asurvedike Paddavare. Santa Maria Madre, Dio prega per noi peccatori, Adesso nell'Orad la nostra morte, Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, Nei secoli, nei secoli, Amen. L'Oradato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero, Gesù carico della croce, sale il Calvario. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, Come in cielo e così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano, E rimetti a noi i nostri debiti, Come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, E non abbandonarci alla tentazione, Ma liberaci dal male, Amen. Maria, regina della pace, Prega per noi, prega per noi, In lingua idaccia, Santa Maria, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Prega per noi, Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Prega per noi, Prega per noi, Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. La miaтяe, In lingua idaccia, Prega per noi, Prega per noi, Prega per noi, Santa Maria, Prega per noi, Prega per noi, Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. La miaykcia, Maria, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, I factori, Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Il quinto mistero, Gesù viene crocifisso e muore sulla croce. Padre, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. A te accolta, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. A te accolta, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. A te accolta, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. A te accolta, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Santa Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Madre di Dio, prega per noi peccatori, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi peccatori, Madre di Cristo, prega per noi peccatori, Madre della Chiesa, prega per noi peccatori, Madre di misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre sempre Vergine, Madre degna d'amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergine, Regina di tutti i Santi, Prega per noi, Regina concepita senza peccato, Prega per noi, Regina assunta in cielo, Prega per noi, Regina del Rosario, Prega per noi, Regina della Famiglia, Prega per noi, Regina della Pace, Prega per noi, Angelo di Dore, Agnello di Dio, Dracula della Sabina, Prega per noi,ücka per noi, Deus 31 Agli humming 최고, Regina dei Quadrati, Regina dei Toni, Regina degli Kingsons,verbia dei Giuliani, Regina degli Sincerati, Gugliani, Regina dei촌, E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro, Signore. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda a essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Invochiamo ora la Vergine Maria con le parole di Papa Francesco. Maria, Madre della Chiesa, che in questa Santa Casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo Spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Signore sia con voi e con il tuo spirito. E per intercessione della Beata Vergine Maria, il Signore Dio Onnipotente, che Padre, Figlio e Spirito Santo benedica voi e vostri cari in particolare i malati. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Madre in cammino, sei con noi, Maria, Donna Beata, canta il mondo in te. Ave fanciulla di Dio, splendida agli occhi del Padre, l'angelo non c'è il mistero, doni alla terra il tuo sì. Madre in cammino, sei con noi, Maria, Donna Beata, canta il mondo in te. Salve Regina del cielo, sei mediatrice d'amore, vita, dolcezza, speranza, mostraci il figlio tuo Gesù. Madre in cammino, sei con noi, Maria, Donna Beata, canta il mondo in te. Tu pellegrino, sei con noi, Maria, tu pellegrina nel tempo, Signore splendida per via, piena di Spirito Santo, vieni alla Chiesa con te. Madre in cammino, sei con noi, Maria, Donna Beata, canta il mondo in te. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.